Nei primi tre mesi del 2024 l'export delle specializzazioni distrettuali dei poli della Toscana è stato pari a 9 miliardi di euro, registrando una crescita del 20% nettamente superiore al dato nazionale che si è attestato al 3,6%. È quanto emerge dal monitor dei distretti della Toscana elaborato dal Research Department di Intesa San Paolo. Un apporto fondamentale a questo risultato è stato fornito dal balzo registrato nelle esportazioni del distretto dell'oreficeria di Arezzo, più 133% e dal polo farmaceutico toscano, più 44%. A fronte di questa crescita significativa nel settore dell'oreficeria va peggio invece per quello che riguarda il distretto della pelletteria e della calzatura di Firenze, meno 23% e anche e soprattutto del tessile e abbigliamento. Le esportazioni del distretto si sono ridotte di 35 milioni di euro, meno 6,3%. Sul fronte dei prodotti agroalimentari il distretto dell'olio toscano ha mostrato un andamento positivo, generalizzato a tutte le province con variazioni percentuali che passano dal 54% di Lucca al più quasi 100% di Grosseto.